siamo oggi in collegamento con l'avvocato diego poggio commissario esl biella con lui faremo un attimo un bilancio sulla situazione sulla fase 2 che riguarda l'emergenza coronavirus per capire un po come sta andando intanto buongiorno avvocato poggio buongiorno a tutti buongiorno grazie per essere con noi oggi sulla piattaforma di newbiella.it allora avvocato parliamo un attimo dell'emergenza della fase 2 siamo già arrivati a due stadi diversi alcune riaperture ieri c'è stato un po in là tanta gente in giro com'è la situazione in questo momento a livello sanitario la situazione del biellese rispecchia la situazione un po che si si trova in tutta italia quindi abbiamo un calo significativo dei contagi e anche i ricoveri sono molti meno le persone ricoverate hanno una patologia molto meno grave e quindi con molta cautela possiamo dire che in questo momento la situazione è in netto miglioramento. Allora lei giustamente usa il termine da cautela perché effettivamente è d'obbligo parlare in questi termini avete fronteggiato un'emergenza veramente importante infatti va tutto il nostro apprezzamento e ringraziamenti al personale sanitario questo tutti i giorni tutti i giorni viene fatto ma quanto è stato importante avere un ospedale tecnologicamente avanzato come il vostro per combattere questa emergenza. È stato molto importante perché nel momento dell'emergenza noi siamo riusciti a trasformare sei reparti dell'ospedale in reparti covid in pochissimi giorni grazie alla struttura grazie alle sue attrezzature a quello che che aveva quindi sicuramente quando hanno progettato questo pedale non avevano in mente un'emergenza di questo tipo ma averlo progettato in quel modo e averlo dotato delle apparecchiature che ha anche grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio che non dimentichiamo ha contribuito con più di 20 milioni di euro a questa realizzazione ci ha consentito in questa emergenza di affrontarla in maniera molto più incisiva e anche utile per per la popolazione quindi sicuramente la struttura è stata importante poi ovviamente diceva lei non possiamo dimenticarci non dobbiamo dimenticarci il contributo di tutti gli operatori dai medici agli infermieri agli amministrativi tutti quanti ecco avvocato per una volta proviamo a dire dire in cosa è stata brava in questa gestione o meglio parte parlo della parte sanitaria dell'ospedale in primis ovviamente ma è stata brava come sono state brave tutte le le strutture sanitarie sul territorio abbiamo abbiamo risposto e quello sì quello è un merito che ci appuntiamo abbiamo risposto a tutte le esigenze sanitarie della popolazione senza mandare via nessuno all'ospedale di biella abbiamo accolto tutti il pronto soccorso non ha dovuto rinviare ad altra struttura alcun paziente anche quelli che sono entrati in terapia intensiva sono stati trattati tutti qui a biella quindi sì da quel punto di vista lì se vogliamo dirlo siamo stati bravi ma bravi come tutti gli altri nell'emergenza si fa quello che si deve fare e poi si va avanti quindi è così diciamolo per una volta c'è stata una risposta adeguata proprio in questa emergenza che era mondiale pertanto non va detto senza avvocato lei prima ha parlato di tanti aiuti beh abbiamo parlato del dell'ospedale tendo tecnologicamente avanzato ma poi ci sono stati tanti apporti di persone e aziende che hanno voluto essere vicine all'ospedale in questa fase per cui tante donazioni vero siete riusciti anche ad aumentare i posti letto e ad automatizzare certe situazioni sì la risposta che ha dato il territorio è stata straordinaria veramente straordinaria noi in poco meno di due mesi abbiamo raccolto fra donazioni in denaro e donazioni in apparecchiature tra l'ospedale e l'associazione amici dell'ospedale più di 3 milioni di euro quindi una cifra assolutamente straordinaria che nessuno si sarebbe aspettato la generosità dei biellesi si è dimostrata ancora una volta enorme a partire dai privati ma poi gli imprenditori le associazioni le fondazioni adesso nominarle tutte poi uno si corre il rischio di dimenticarne qualcuna ma sicuramente la fondazione la cassa di risparmio il fondo e dotempio alla lite tutte tutte si sono dimostrate generosissime così come tanti imprenditori privati tutto questo ci ha consentito di acquistare il necessario che altrimenti non avremmo potuto trovare perché come si sa le forniture erano contingentate invece qui attraverso l'aiuto concreto degli imprenditori e dei cittadini del biellesi abbiamo potuto garantire anche i nostri operatori tutte quelle protezioni necessarie per poter proteggiare l'emergenza così come tutte le apparecchiature abbiamo comprato decine di ventilatori letti di terapia intensiva e tante altre apparecchiature che sono si sono rilevate utilissime nell'affrontare l'emergenza possiamo dire allora che il biellese per questa volta si è stretto intorno ovviamente a quello che è la parte sanitaria per dare una grossa mano avvocato adesso state pensando anche alla gestione post covid no cos'è che avete in ballo avete so che avete dei progetti su strutture che possono ospitare i degenti vero ma sì la nostra idea è sfruttare al meglio gli spazi che abbiamo all'interno dell'ospedale alcuni non sono ancora completati sono come si dice al grezzo in particolare una di queste aree che si trova nel satellite ovest di quasi 700 metri quadrati è l'ideale per poter pensare un nuovo reparto di terapia intensiva che al bisogno possa essere utilizzato in tempi rapidissimi quindi la nostra idea per l'ospedale quella di realizzare in questa area ancora al grezzo una struttura modulare che nell'ambito quando si parla di attività normale possa essere utilizzata o come sede ambulatoriale o come sede di degenza ordinaria ma che abbia tutte le caratteristiche e tutte le strutture per poter essere trasformata in pochissimo tempo in un'area di terapia intensiva e invece sul territorio quello che vogliamo realizzare è la telemedicina telemedicina intesa in tutti i suoi aspetti quindi dal teleconsulto alla telerefertazione a tutti quegli strumenti che la tecnologia ci mette oggi disposizione per poter fare in modo che sia il medico che va al capezzale del dell'utente e non il contrario quindi tutte quelle attrezzature quelle tecnologie che consentono di far sì che in ospedale arrivino soltanto coloro che hanno effettivamente bisogno di un intervento in acuzia tecnologia in aiuto alla sanità dice lei giustamente ultima cosa avvocato un suo pensiero personale in base a questa esperienza che vabbè non è ancora terminata secondo lei andrà rivisto un po il piano sanitario nazionale con queste facendo delle dovute considerazioni ma guardi sono al lavoro variate commissioni sia a livello nazionale e a livello regionale sono due le commissioni che si stanno occupando della riorganizzazione del servizio sanitario regionale a livello territoriale e a livello ospedaliero quindi aspettiamo di vedere quali sono le conclusioni a cui arriveranno queste commissioni dal mio punto di vista avendo lavorato in trincea posso dire che sicuramente serve sempre di più una sinergia tra ospedale territorio non non si può continuare a avere delle idee di attività completamente diverse ospedale territorio devono lavorare insieme per dare le risposte migliori all'utenza quindi ripeto tutte quelle che sono quelle iniziative che possono avvicinare i professionisti dentro l'ospedale ai professionisti che operano sul territorio dovranno essere perseguite peraltro già questo era l'indirizzo regionale anche in epoca pre covid con l'istituzione delle case della salute che dovranno solo essere ripensate e utilizzate al meglio quindi questo è un po il mio pensiero dalla trincea bene allora dalle parole della sua trincea sinergia tra ospedale territorio in aiuto per l'utente finale che questo penso sia un un pensiero condivisibile la salutiamo la ringraziamo per essere stata con noi per news bl è tutto mauro benedetti grazie a voi arrivederci a tutti grazie a tutti